Buona giornata, ben ritrovati. Un aggiornamento con le previsioni per questo fine settimana. Tornano le piogge sul Mediterraneo. Difatti l'alta pressione verrà cacciata via proprio nei primissimi giorni di aprile da una zona di bassa pressione che invierà correnti instabili più fredde dal nord Europa verso tutta l'Europa centro-orientale, anche l'Italia. Quindi ci attendiamo il ritorno di qualche precipitazione ed un calo delle temperature per venti più freddi di Tramontana e Grecale. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.